Lucio Barani, ex segretario del nuovo Partito Socialista Italiano, e oggi senatore di ALA, il gruppo parlamentare guidato da Denis Verdini, ha detto a Repubblica, che voterebbe a favore, insieme a buona parte del suo gruppo, la legge sullo Iussoli, che se approvata permetterà ai figli di cittadini stranieri nati in Italia, o arrivati da bambini nel nostro paese, di ottenere la cittadinanza dopo aver completato un ciclo scolastico. Barani ha detto. E me lo chiedete pure. Certo che voterò lo Iussoli, e con me quasi tutto il gruppo, se finalmente avranno il coraggio di portare in aula quella benedetta legge. Sì, anche qui al Senato. Io sono di cultura socialista, non scherziamo. Guardi, io di mestiere sarei medico? Ma in politica mi considero un docente universitario di diritti umani. Qui al Senato posso dare lezioni in materia. Altro che d'accordo sulla legge sullo Iussoli, molto di più.